Cosa succederà nella quarta puntata di Mare fuori 3 in onda mercoledì 8 marzo 2023 su Rai 2? Scopriamolo assieme, Sofia svela la sua vera identità e Paola ne paga le conseguenze. La tragedia accaduta in IPM getta un'ombra nefasta sulle vite di tutti. Doberman il nuovo entrato ha delle mire su Cubra e Pino non glielo perdona. La tensione tra i ragazzi e alle stelle e gli equilibri nel carcere sono appesi a un filo. La vita spericolata di Nadizza e Filippo diventa imprudente e Nadizza si trova in una situazione in cui mai si sarebbe trovata da sola. Lei vuole una vita alla luce del sole e un futuro da sognare. Mentre Sofia si insedia come nuova direttrice, per Paola è l'ora degli addii. Ma subito sorgono nuovi problemi nell'IPM, Pino, dopo il feroce litigio con Doberman, viene sbattuto in isolamento. Cardiotrap non riesce a legare con la nuova insegnante di musica, mentre Massimo cerca in ogni modo di far confessare a Mimmo la sua terribile verità. Intanto, Nad e Filippo sfuggono ai due malviventi, ma il loro rapporto è sempre più logorato dai colpi di testa del ragazzo. L'amicizia tra Milos e Cucciolo si fa ancora più stretta. Per Edoardo giunge invece il giorno delle nozze, sebbene il suo pensiero corra sempre a Teresa, ma non è solo questo che preoccupa Carmela. Per non perdere le prossime anticipazioni, iscriviti al canale.